Non è un contratto a 5 mesi, a 6 mesi e poi vediamo, è un progetto basato su tanti aspetti e quindi a lungo termine. Oggi è benale, ho letto delle cifre che non sono assolutamente quelle, ci tengo a precisarlo. Questo avvalora ancora di più la voglia di Fabio di sposare questo progetto, di clausole che non ce ne sono. Quindi è la totalità di un progetto.